Riesci ad immaginare quante operazioni al secondo effettuano i cosiddetti supercomputer? Ecco a te un indizio. Usare un supercomputer è come guidare una macchina di Formula 1. Al giorno d'oggi, infatti, i supercomputer riescono ad effettuare un miliardo di miliardi di operazioni al secondo. Hai capito bene? Uno seguito da ben 18 zeri. Seguendo il corso, imparerai ad usare un supercomputer, articolando ciascun problema in più sottoproblemi, al fine di risolverli in parallelo mediante l'uso di più macchine, per poi, alla fine, ricostruire la soluzione completa partendo dalle sottosoluzioni. Il corso è l'occasione giusta per introdurre, discutere ed imparare idee, metodi e strumenti software indispensabili per risolvere problemi computazionali usando un supercomputer. Che aspetti? Segui il corso ed iscriviti su federica.eu